buonasera a tutti sono Luigi onaracus e preferite bentornati su Seven Daily Sin Grand Cross con l'analisi del nuovo original character uscito anni prima rispetto al JAP, ovvero Valenti, un evil researcher. il PG è uscito in un momento abbastanza interessante perché sinceramente mi porta a credere che settimana prossima barra massimo due avremo Lilia Blu in quanto questo PG è direttamente collegato al suo counter o meglio il primo dei suoi counter questo è quella che funziona un pochino peggio il vero counter skin king rosso di cui parleremo più avanti ma iniziamo per i divanenti razza umana attributo life quindi verde ssr ottenibile con 10 summon la decima viene rimborsata a causa piccolo errore non è proprio il PG migliore del mondo è statistiche nella media un'alta resistenza che sarà quella su cui dovremmo mirare ragazzi bisogna far arrivare quella resistenza a un valore superiore dell'ottanta per cento vi dico per farla davvero davvero grossa critical damage basso resistance e difesa alta recovery rate allora skill 1 180 per cento da 180 per cento a 300 per cento di danno contro un nemico diminuisce tutte le statistiche difensive quindi difesa resistenza critica eccetera 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 del 20 per cento per un turno o del 30 per cento o del 40 per cento per due turni le skill di valenti sono tutte e due molto similari tra loro sono dei single target che mirano a ridurre le statistiche avversarie carina carina non ha un utilizzo elevatissimo in alcuni aspetti di gioco ovvero magari il nemico nel pv è il nemico immune oppure anche il pv penso contro escanor che è immune nel momento in cui si carica la special ma calcolate che le viene comunque utilizzate nel turno stesso attivare la skill 3 la livello 3 della skill 1 di valenti contro un escano e poi buttare in attacco di un pg rosso fidatevi gli fa talmente tanto male che se lo ricorda da qua alla fine dei tempi però è sempre sprecare tra molte virgolette uno slot 100 per cento non è tantissimo 300 invece inizia essere interessante seppur ragazzi questo pg non è un dps la skill 2 è molto simile alla precedente solo che è parte da 120 per cento a skill 1 poi dalla skill 2 inizia diventare simpatica è primo 120.150 per cento con riduzione dell'attacco delle statistiche d'attacco nemiche dal 20 al 30 per cento per due o tre turni questa è molto carina vi permette di ridurre i danni che subite quindi può essere però ci sono tuoni enormi ci può essere alcune giocate molto interessanti con questo pg e questa skill naturalmente anche qua non stiamo parlando al miracolo non stiamo dicendo che la skill della vita ma è una skill che può dire la sua può dire la sua immagino un eventuale team valenti lilia verde king o gother e dietro il nostro caro che il thunder verde team mega cazzuto difensivo che fa impazzire gli avversari la special infligge rottura a un nemico quindi due per di danno contro i nemici baffati moltiplicato da due 30 da 6 30 9 45 ci sta la passiva la passiva ecco questo è un errore che ho detto nella sua nel suo showcase si attiva unicamente quando entri in battaglia quindi siete obbligati a giocarla prima e nel team principale questo è il puntabile rispetto a skinny king skinny king funziona anche come sub vi porta quindi ad avere un equip specifico che può essere l'attacco e difesa con sub resistenza è obbligatorio pressa poco averli però ssr dato che perdete in molta difesa altrimenti riducendo quindi le possibilità di sopravvivenza nel momento in cui questo pg entra in campo riducete il pierce rate di tutti i nemici di ammontare pallina resistenza avendo una valenti con 80 per cento di resistenza riduce presa poco a zero il pierce rate e ragazzi è molto importante perché ridurre così tanto il pierce rate impedirà ai team lilia mel blue di decimarvi in due bronzo di mel blue associazioni con le varie diana lilia e niente di che la domanda è vale la pena pullare su questo pg a mio avviso non molto è un original character ok però ragazzi ci saranno altre occasioni di prenderla sinceramente non è che sia questo master v assoluto sì se non l'avete potreste avere problemi contro i team lilia mel blue lilia blue mel demon mel però potreste anche voi giocare quel team e fregarvene altamente il fatto che debba giocare obbligatoriamente in turno e vi occupi quindi uno slot dei pg attivi e non sia perfettissima con gli unit anche se può rompere le scatole ben buildate in hp e resistenza non mi fa gridare al miracolo io l'ho comunque voluta prendere voi decidete con calma può essere un pg anche da saltare tutto questo noi ci vediamo nei prossimi giorni con i prossimi video io vi auguro una buona serata vi avviso che probabilmente venerdì e sabato e domenica non usciranno video uscirà pochissima roba perché sono impegnato in cose più importanti cercherò comunque di far uscire domenica l'episodio 16 che però potrebbe slittare a metà settimana prossima vediamo un attimo vi auguro quindi un buon fine settimana e ci sentiamo a sto punto lunedì che farò di tutto ragazzi ve lo giuro se riesco anche domenica sera se mi libero per farvi l'analisi di Kefra giuri in gioretto